Abbiamo vinto, grotto-eco-suum! Giess di Finnen! Grotto-eco-suum! Grotto-eco-suum! dai stacchiamo tutti quanti ci facciamo l'ultima solo Gianmarco non stacca dai e cioè solo Simone non stacca Andreuth ci stai? dai che si fa sul sfero ah dai 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 pronti? partenza? andiamo tutti a morire su bio weapon o chemical dove vogliamo andare? ah già vabbè io verso le 7 perché devo svegliarmi per preparare i bambini per la scuola quindi lo installo pure io oh Andre funziona il fatto di come scendere la scaletta più veloce lo sai? mo l'ho fatto si si lo sai Simu? praticamente quando stai sulla scaletta premi il cerchio per scivolare e perché non ce l'hai mai detto? che cosa? che cosa? non te ne frega degli amici ho capito vabbè non fa niente vabbè è chiaro a me si ma tu che tieni premuto? devi tenere premuto cerchio da dove? da dove? da dove? da il solito posto il stato? eh vabbè ma mi hanno ucciso proprio si si è buttato giù a me direttamente vabbè del solito è cretinate eh fermi 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 che mo li sistemo io teneteli occupati teneteli occupati fatevi vedere sparateli sparateli stanno andando a prendere il lancio voglio prendiamoci il suo lancio prendiamoci il lancio ma come posizione non valida eh traffico aereo troppo intenso sto arrivando ci sono mi lascio i soldi prendete oh stanno di nuovo la sopra oh ne ho ucciso uno ne ho ucciso uno centro bel colpo ne ho ucciso uno bene torno su voglio giamma con carte scudi mi dai vabbè la scesata eh non ce l'ha neanche io gli scudi eh il denaro è nostro ah questi stanno venendo eh lo dici ragazzi in arrivo non li vedo più là che che ha aperto io giù io io hanno chiamato si sono presi ora il lancio se li andiamo a prendere li prendiamo contro tempo ora ora però dobbiamo andare ragazzi stanno ancora prendendo il lancio l'altro morto mi hanno colpito sono craccato sono craccato vedete fa copertura ho preso muri ma ci manco l'ultimo eh l'ultimo l'avevo ucciso io con il bombardamento uno eh qua ram ram e far far fatto in modo che mi muova veloce andiamocene dentro andiamocene dentro andiamocene dentro se no siamo troppo aperti io ci so uno a volo bene bene ah qua non ho nessuno il pingatore avete colpito avete colpito cecchino 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 si tieni 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 André 32 tieni Ricognizione al Chimical Sì, 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 dietro dove abbiamo preso il lancio Andiamo No, andiamo, è animato, va a loro ricognizione L'hanno rianimato, sì Non me li pinga Mi lancia tre, trovi altre cose 24 metri, stanno qua, due, tutte e due qua Uno l'ho notato Vabbè, entrate Entrate, entrate, entrate Finito, uno Siete salvi Avete seminato i miei seguitori Oh, ce ne faccio No, non me lo pinga 94, sì Vendo un tiratore Dov'è? Oh, a me non me lo pinga L'hanno ucciso Un cazzo a sacco Ogni cazzo a sacco No, guardate Passano corazze e munizioni Corazza, qui Raga, qua c'è una sacca Che ho sparato Dove sta, dove sta, dove sta Ah, sopra Dentro dove? Eccolo qua Dove sta Andrea Di posizionamento Penso stia su Avete uccisi tutti Allora uno Uno Ok Guardate, fronte a me Non vedo nessuno Dove ce l'hanno a spostare? Sto avanzando Stai solo, però Aspetta No, la gestione è una taglia Ho capito Però stai sempre solo Così Oh, ce l'abbiamo in testa Ah, è su Oh, no Ce n'è uno Pure sul tetto Ce n'è Mi ha disintegrato C'è uno C'è uno E' proprio sopra di noi E' sopra di noi proprio Proprio sopra di noi No, non si può salire da qua Non lo vedo sopra Non lo vedo sopra Dov'è? Ah, eccolo Eh, è sceso di noi Ah E' sopra di me E' sopra di me Eccomi in testa Poi stanno a due Poi stanno a due Io lo so che stanno a due E' ostile André, il sergente dice Ah, zitto, qui stanno Bene, ci ricomincio C'è uno Ce n'abbiamo una in testa Qua di me Voglio lasciare un paio di scudi E un paio di munizione Mi chiede Aspetta, aspetta Giamma, tu lo vuoi fare Dove sta? Morto Ah, Simone Andrè, andrè Andrè, c'è la L'ho presa io Tieni, andrè Ho messo i quattro Punizioni Ti posso dare un caricatore Al massimo Mi chiede Mi chiede Mi chiede Tutti Tieni, tieni Tieni, stanno qua Tieni Proviamo Raviamo Raga, 50 metri di qua Ce li abbiamo Ok, stanno qui su Stanno su, sì Nemico marcato Che facciamo Saliamo O li aspettiamo giù No Non saliamo Non saliamo Perché ci dobbiamo buttare qua a destra Io me li andrei Semplicemente A farlo dietro Puoi provare? Certo, non arrivo Eccolo, uno Uno a terra Sto sprovando a salire Raga, ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Forse Qua Ah no, senti a voi Scusa, scusa Tema trophy attivato Dov'è il cecchino? Ho sentito sparare un cecchino Ragazzi, ce ne sono ancora parecchie Ci dobbiamo buttare No, no, ma come? Uccidetelo 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 Non sta, se no è il prossimo che viene e ci uccide Eccoli, li vedo, li vedo Dove, dove, dove? Uno è craccato A terra, uno No, c'è un altro dietro la roccia Uno dietro la roccia Rianimatemi Abbiamo vinto Grotto Ergo Zoom Yeah 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 Grotto Ergo Zoom 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 e Andrea è più contento che questa è stata l'ultima partita che dopo andrò abilmente a mutare cioè nel senso che la riporto così visto che Andreuzo è stato così buono da non parlare tutta la partita sei contento Andrea ora? contento posti Andrea ragazzuoli dopo questa io vi auguro solo una buonanotte fate i sogni d'oro sognate Peppe Hitech che urla godo ero gozoom e ci rivediamo con la prossima live vi saluto e vi salutano anche i ragazzi ciao a tutti buonanotte a tutti e mi raccomando ragazzi seguitemi su tutti i miei camannali ciao grazie a tutti grazie a tutti